Bella a tutti ragazzi saluti qui su un nuovo video e questo oggi andiamo a affrontare il campionato di project del TCR che oggi siamo in Belgio, quindi c'è un amico in Belgio, a Franco Farroa, a Franco Fabi del Spa, ragazzi avete capito e niente oggi partiamo sesti, quindi proprio diventeremo sesti sicuramente ragazzi ve l'ho accelerato un pochino il video perché a metà era un pochino noioso quindi ho deciso di accelerare tutto il video ragazzi iscrivetevi, lasciate un bel mi piace come sempre, la prossima gara sarà in non lo so perché non ho ancora visto i tabelloni se riuscirò mi metterò la classifica come copertina se ci riesco e niente ragazzi vi lascio il video, bella ragazzi iscrivetevi, lasciate un pochino ragazzi è un pochino ragazzi iscrivetevi, lasciate un pochino ragazzi iscrivetevi, lasciate un pochino ragazzi è un pochino ragazzi è inseribile ragazzi è invenuto Grazie a tutti. 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 Vai a tutti. a tutti. Grazie a tutti.